oggi esagero sì perché l'altro giorno un progettista mi ha detto sì tu sei bravo a fare gli impiantini nelle casette però quando poi si parla di roba industriale beh permesso che preferisco di gran lunga aiutare le famiglie a togliersi dal gas oggi voglio dimostrarti che non esistono solo pompe di calore da 5 9 20 kilowatt ma anche da 90 kilowatt ecco che allora adesso sto andando in cantiere perché mi hanno chiamato che stanno facendo la consegna di una pompa di calore da 90 kilowatt è un progetto abbastanza top secret e infatti la seconda parte del video la farò tra qualche mese quando tutto l'impianto sarà collaudato perché un impianto veramente enorme di solito non seguo gli impianti industriali preferisco come te detto e seguire le famiglie ma questo era un caso particolare perché perché non si tratta di un progetto industriale qualsiasi ma bensì di un progetto che ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento in un specificato posto che scoprirai tra qualche mese e quindi è un argomento che mi tocca da vicino anche perché insomma riguarda la salute dei nostri figli e il futuro soprattutto dei nostri figli in questo caso allora abbiamo una pompa di calore da 90 kilowatt ecco non è un classico chiller trasformato in pompa di calore ma questa è stata costruita per fare riscaldamento e te ne renderai ben conto se vai a sbirciare tra le schede tecniche di produttori di chiller dove troverai pompe di calore che hanno copi direi ridicoli quando si parla di grosse potenze copi veramente bassi nel nostro caso invece abbiamo un copi di 4,4 con due gradi di aria esterna in mandata 35 roba veramente stratosferica e la macchina che stiamo consegnando a differenza dei classici chiller che trovi in giro pesa la bellezza di 1361 kg c'è tanta roba tanta roba eccomi in cantiere i ragazzi stanno posizionando la gru per scaricare la pompa di calore professionale da 90 chilowatt è un bel un bel giocattolino questa prima parte l'abbiamo fatta allora ci vediamo tra qualche mese che vengo qui ad accendere e collaudare la macchina se ti è piaciuto questo video e se vuoi ricevere in anteprima i miei prossimi video allora clicca sul tasto iscriviti e anche sulla campanella a fianco e se hai qualche domanda da fare scrivi pure nei commenti qui sotto alla prossima